Ehi, ciao a tutti amici, benvenuti in questa nuovissima puntata, eccoci qua in game, ah ma ma non era l'ultima puntata quella, la scorsa, non era l'ultima puntata, ci arrivo, ci arrivo, ci arrivo, vi ho un po' trollato, però come al solito vi ricordo di supportare questa serie con un bel mi piace, commento e una condivisione, di iscrivervi al canale, di iscrivervi al canale, di iscrivervi al canale. iscriviti e attivare la campanella, pagina instagram, facebook, gruppo telegram, tutti i link sono in descrizione come anche in descrizione, la playlist di questa fantastica serie, che come avrete capito non è finita, non è assolutissimamente finita, anzi, abbiamo ancora qualcasino da fare, nell'attesa comunque che esca il nuovo aggiornamento, un aggiornamento che dovrebbe uscire penso a metà settembre circa, però non ne sono certo. ora siamo arrivati fino a qua, ne facciamo un altro, sì, questo ci serve tra l'altro, allora sì, direi di sì che ci siamo più o meno, vedete che stavo terminando i lavori qua, sono molto importanti questi lavori, e la scala possiamo farla direi di sì, la facciamo magari doppia così, anche questo ci serve, stanno spawnando un sacco di larve, non riesco a prenderla, vabbè fa niente. Mettiamo una scaletta qua, vai, e una scaletta direi qua che si aggancia, non si capisce mai quando si aggancia, eh ma esce il simbolo amo, dove cavolo è il simbolo? Non si vede una mazza, non si aggancia una ceppa qua, niente. Cosa sta succedendo? Ma perché? No, devono sistemare però sta storia di sto coso, di costruzione, è una cosa abominevole, abominevole! Cioè veramente, è una roba, dire poco abominevole, se avete capito, non riesco più a parlare, va bene, niente, questo non riesco a piazzarlo, va bene. Andiamo avanti con la puntata, se no non finiamo più. Allora, torniamo a noi. Nella scorsa puntata abbiamo fatto assieme un finale, ma in realtà ce ne sono altri due. Bene, come fare a sbloccarli? Lo vediamo. Sicuramente riusciamo a fare un altro finale, non so l'altro ancora. E un finale, qualcuno di voi si è accorto e mi ha detto Ehi Amon, ma ascolta, hai fatto due puntate a cercare delle chiavi dei guardiani? E poi non ci fai vedere il finale delle chiavi dei guardiani? Cosa cavolo servivano? E adesso vi faccio vedere. Annanzitutto mettiamo questo. E andiamo qua. Eccole qua. Queste sono tutte le chiavi dei guardiani che abbiamo. Servono? Ovviamente sì. Dove? Adesso ve lo faccio vedere. Adesso ve lo faccio vedere. Allora, torniamo là. Cioè là, praticamente là dove stavamo andando. Qua, nella zona di lancio dobbiamo tornare. Nella fottuta zona di lancio. E andare utilizzando il mitico ponte. Vedete qua? Lo che c'è, lo utilizziamo. Andiamo là e adesso vi faccio vedere. Perché, oltre al finale che abbiamo visto, come vi dicevo, la scorsa puntata, ci sono ben altri due. Ora, come sempre, in questi casi, dove nei giochi, e se seguite le mie serie, tutti i giochi che hanno più di un finale, io dico sempre, non c'è il finale giusto, non c'è il finale sbagliato, c'è semplicemente il finale. Che ognuno vuole provare di per sé. Allora, mettiamo dentro. Uno. No, questi non servono. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Eccole qua. E abbiamo un altro finale. Lascia il pianeta, abbi fiducia, che alcuni guardiani siano ancora vidi, e ti accetteranno. Quindi, ora, prima di fare questo finale, allora, andiamo a vedere una cosa. Innanzitutto, le chiavi 11 sono, ma ne servono solo 10. Punto numero uno. Punto numero due. Vi ricordate quando abbiamo fatto saltare in aria l'orb là? Cioè, quella sfera, nella scorsa puntata, la sfera luminosa. Sì, quella sfera lì, che abbiamo messo l'esplosivo lì. Ecco, con questo, non ti vado a bere, con questo tipo di finale, non serve distruggere quello. Quello si chiama orb, non serve distruggerlo. Possiamo tenerlo tranquillamente. Possiamo non distruggerlo, e fare questo finale, che adesso andiamo a vedere. Vai! E qua, rispetto alla scorsa puntata, vediamo un attimo la partenza identica. Nella scorsa puntata, vedevamo le astronavi sopra di noi, l'altro piove, e qua invece no, c'è un portale. Wow! E passiamo dentro questo portale qua, andiamo a vedere un po' cosa succede. Avete visto come questa qua, la roba dei razzi, serve appunto quella, a sbloccare altre cose. Chi ci segue, sappia che il nostro destino è quello della sventura. Tanto piove a go go, piove, ma perché doveva piovere adesso? In sto finale. Ma alcuni di noi credono, ancora che rendersi non sia un'opzione. Molto bene. Guardate che be... ci fa vedere come anche l'altro finale, tutte le cose. E basta sta pioggia, che capo. Vedremo cosa ha in servo per noi, la provvidenza, un guardiano. Quindi, guardate lì, lì si vede, là, là si vede, vedete? Penso che atterreremo qua, perché vedete che c'era il coso tondo per... E poi Planet Crafter, poi sicuramente partirà anche qua, chi lo ha fatto, e torneremo nel menu iniziale ancora. Pronti per fare forse l'altro... Eccolo qua. Oh, finalmente la piagione in più. Pronti per fare forse l'altro finale. Dunque, l'altro finale, non so sinceramente, se funziona. Adesso lo proviamo. Perché non so se funziona. Perché per fare l'altro finale, che comunque è un finale diverso, chiaramente da questi due qua, che cosa serve? Serve arrivare a, mi pare, 250.000 di vendita. Vedete? Perché? Perché nei messaggi, se vi ricordate, nei messaggi era arrivato il tizio là, che ci dava le comunicazioni, ci diceva, ti sblocco questo, stai attento perché quelli si potrebbero arrabbiare, ma grazie a questo, si possono fare degli scambi, con le navi sopra, con scambi, diciamo, non della Sentinel Corp, quindi scambi non autorizzati. Per farlo, serve 250.000 di scambio là, io sinceramente non so quante ne ho, e poi serve 5 di Solar Quartz, cioè 5 di questi, 1, 2, 3, 4 e 5. Cosa si fa? Si va sempre là dove siamo andati finora, si scarica il Solar Quartz là, e a quel punto, si dovrebbe sbloccare anche l'altro finale, e quindi sbloccandoci tutti e tre finali. intanto vi faccio vedere qua, guardate, guardate che belli, guardate che belli questi, quel coso lì era enorme, l'avete visto, e poi ce ne sono altri, ovviamente anche da questa parte qua, guardate, guardate questo, fantastico. Ora, sperando che funzioni il finale, e sperando anche che non piova, come il finale di prima, che quella più aggiale è veramente una roba, veramente, cioè, ti lacera le orecchie, proviamo a sbloccare questo finale qua, a vedere un po' com'è. Qua ovviamente nel ponte, non ve lo dico neanche, servono tutte le varie staccionate, per renderlo un attimino bello, però devo dire che anche la zona qua, là si vede la base, non è male, tra l'altro anche da sopra qua si vede la base. Allora, tanto sono arrivati i gettoni, andiamo qua, 1, 2, 3, 4, e 5, però qua, no, 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 aspetta, 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 via, 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 aspetta che qua c'è un bordel, via questo, e che cavolo me li porti via, siamo tutti e 5, andiamo qua, però vedete che non l'ha sbloccato, questo perché? Perché probabilmente non abbiamo scambiato 250.000 là, quindi per questo tipo di finale, serve probabilmente tempo per arrivare a 250.000, allora, se noi andiamo qua, dove ci sono, e questo era il dubbio, per quello che vi ho detto, forse, forse, però se andiamo qua, andiamo in questa zona qua, e ci muoviamo da questa parte qua, tanto non so se vi avevo fatto vedere questo, che serve per, vedete, aumentare la velocità dei razzi, però guardate qua, qua abbiamo totale gettoni terra scambiati 142.000, gettoni a terra disponibili 24.000, quindi se facciamo il conto di questo, ed è per quello che vi ho detto, forse, perché non ero sicuro di 50.000, ma probabilmente è vero, se andiamo a vedere qua, e facciamo un po' i conti così della serva, siamo più o meno a 170.000, quindi ce ne serve altre 70.000, quindi cosa bisogna fare? Niente, bisogna andare e continuare a commerciare, cosa succederà? che sicuramente quando uscirà l'aggiornamento, che avremo tante altre cose probabilmente da fare, e andremo a vedere l'aggiornamento, sicuramente avremo anche questa cosa qua da fare, cioè arrivare ad avere 70.000, 80.000 ancora, e probabilmente ci arriveremo, perché comunque tra fare una cosa, fai un'altra, fai il mezzo, vedi come funziona, vedi tutti gli altri aggiornamenti che sono stati fatti, magari biomi nuovi, arriveremo a quel valore appunto, perché abbiamo un bel po' di cose da fare, ora come ora, non sto qua a farvelo vedere, perché dovrei, cioè in realtà da fare poco nulla, poco nulla, perché comunque abbiamo fatto praticamente tutto, quindi non sarebbe neanche una bella puntata, tra virgolette, cioè fare solo quella cosa lì, e sinceramente a me stare off camera, e comunque in game, ma off camera per, che ne so, per fare 70.000, contando che il razzo va e viene, e ci porta, quanto ci porta il razzo? Va e viene, ci porta più o meno, 170, e va e viene in 5 minuti facciamo, due razzi, vuol dire che ci vuole un botto di tempo, e io sinceramente stare, un botto di tempo così, ma anche no, ma anche no, potrei fare un'altra cosa in effetti, cioè usare il, come si chiama il, il portale, che avevamo fatto, che è lì vicino ai razzi, per entrare in un'altra parte di questo pianeta, e andare lì, a raccogliere i bonus gettoni, i gettoni che si trovano nelle casse, ecco, quello potrei farlo, sicuramente ci dà un bel boost, rispetto a che stare ad aspettare qua, però sinceramente non lo so, lo vedremo quando uscirà l'aggiornamento, quando uscirà l'aggiornamento, che sarà fruibile, lo proviamo, e poi lì decidiamo, vediamo a che punto siamo, e così vediamo di sbloccare, magari, e sicuramente lo faremo a questo punto, il prossimo finale, molto interessante, giusto per vedere, comunque come vedete, sono finali brevi, niente di che, e come vedete, non c'è giusto sbagliato nel finale, è un finale, uno in un modo, uno in un altro, ma è sempre un finale così, cioè, non è che è un finale che, oh, è successo questo, ti fa andare da un'altra parte a fare qualcosa, no, è un finale, fine a se stesso, ma nulla di che, nulla di che, quindi, allora io vi dico, per questa super veloce puntata, è tutto, io sinceramente non volevo fare subito questa puntata, perché se avete visto, avevo lasciato l'ultimo video, dicendo, arrivederci, arrivederci era volutamente per dire, ci vediamo quando uscirà un nuovo aggiornamento, ma però poi ho detto, cavolo dai, un altro finale, voglio vederlo, io voglio farvelo vedere a voi, ne lasciamo uno, in sospeso, come vi ho detto, ma lo vediamo appena possibile, quindi continuate a seguire il canale, mi raccomando, molto importante, allora, per questo video è tutto, ma non per la serie, mi raccomando, supportate questo canale, con un bel mi piace, commento, una condizione, iscrivetevi al canale se siete iscritti, e attivate la campanella, pagina Instagram, pagina Facebook, gruppo Telegram, sapete già, tutti i link sono in descrizione, come anche in descrizione, la playlist, di questa serie, ora, prima di salutarci, torniamo un attimo in base, eccoci qua in base, è notte, quindi va bene, lo stesso, guardate le trasparenze, che belle, andiamo qua, e andiamo qua, perché guardate qua, stadio di terraformazione, terraformazione, completata, chissà se, nell'aggiornamento, ci sarà un nuovo stadio, forse sì, forse no, e dal prossimo aggiornamento, capiremo anche se il gioco, avrà altri rilasci, oppure con l'ultimo aggiornamento, che faranno, sarà la fine di questo gioco, nel senso che, una volta che arriva la terraformazione, finisce tutto, nel senso che, non ci sono altri stati, lo capiremo, ma lo capiremo, appunto, quando uscirà l'aggiornamento, non manca tantissimo, secondo me, entro metà settembre uscirà, prima ho detto metà settembre, ma secondo me, entro metà settembre, detto questo, ci vediamo al prossimo fututo video, ciao a tutti. Grazie.